Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui di Donati su Fortnite in compagnia della mia ragazza Salve Per andare a commentare il bilanciamento che c'è stato due giorni fa appunto sul gioco Hanno ritoccato un sacco di armi ma soprattutto i medaglioni, li hanno totalmente distrutti ragazzi Nel video oggi vi spiegherò esattamente quello che appunto hanno fatto i medaglioni e come funzionano adesso Voi poi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate Ma soprattutto come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGY Tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite, mi raccomando ragazzola è davvero fondamentale per supportarmi Quindi incontrate sempre che sul supporto in creatore ci sia scritto GGY Tutto attaccato anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo Grazie a quello di cuore a chi lo farà è davvero fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto Lasciando un bel mi piace per supportare il video Diciamo che è una sorta di GG News se vogliamo E infatti alle 13.30 uscirà comunque un altro video extra In questi giorni ne sto caricando due quindi recuperatevi pure quelli sul canale Ora preparo un server privato così ne parliamo con più calma e vi faccio vedere esattamente ciò che succede Solo che Serena giocherà contro di me perché alcune meccaniche vanno spiegate durante dei fight Diciamo così Ok ragazzi mentre prendiamo tutti e cinque i medaglioni Perché per spiegarvi le nuove meccaniche dobbiamo prenderli per forza tutti e cinque Vi racconto tutti gli altri bilanciamenti e cambiamenti che hanno fatto Ora in questi giorni hanno comunque fatto dei cambiamenti anche a livello di mappa Per esempio l'isola dello spawn in cielo adesso è natalizia Tra l'altro ci farò un video probabilmente sul canale extra GG Special se tu vi lascio il link in descrizione In cui tra l'altro alle 9 probabilmente uscirà un gameplay invece nell'altra nuova modalità Quella speciale che hanno messo per le feste dove hanno messo tutta roba un po' particolare Ma vabbè poi poi ne parliamo meglio anche dopo Quindi comunque in questi giorni altre novità ci sono state Ovviamente sono usciti i regali di Natale hanno messo alcune armi di Natale Ma di questo in realtà ne abbiamo già parlato anche qui sul canale principale di Fortnite Che appunto è questo qui ovviamente Però appunto poi di botto sono usciti questi bilanciamenti In realtà neanche troppo annunciati amore se non sbaglio No di botto di sera sono usciti Così poi non ne hanno neanche parlato più di tanto Tant'è che se ne è iniziato a parlare ieri Ma il bilanciamento è uscito già l'altro ieri Quindi se non ne sapevate niente tranquilli perché pure io l'ho scoperto un po' in ritardo Fatto sta che questi sono i cambiamenti principali Occhio perché poi c'è un'altra pagina quindi non sono solo questi È un bel po' di roba hanno ritoccato eh Allora innanzitutto la pistolina dello shield adesso fa uno di danno in più Quindi l'hanno leggermente potenziata Quindi lo shield dovrebbe durare nello stesso modo Semplicemente adesso fa un po' più di danno appunto alla pistolina La pistola ranger ragazzi dovrebbe essere l'unica pistola esistente Attualmente in game comunque nel dubbio vi metto sempre le foto delle armi Perché anche io durante questa stagione faccio casini con i nomi delle armi Quindi se fate casino come me con i nomi delle armi in questa season Lasciate un bel mi piace Comunque anche essa è stata potenziata da un punto di vista del danno Quindi prendete le pistoline sono state tutte potenziate semplicemente per il danno Ovviamente come vedete in tutte le rarità praticamente Comunque raga aspettate un attimo perché così faccio fuori il boss Anche perché mi devo sbrigare eh Perché ho visto che qua siamo fuori dalla safe E quindi questo potrebbe essere un bel problema Anche perché io poi dopo mi devo andare a prendere Oscar Mi devo andare a prendere Allora tanto a noi principalmente ci interessa questo Mi pio pure questo e mi pio pure le impulsi raga Perché non si sa mai Ok buon in attimo Allora io vado da Oscar amore Ok io ancora mi sono appena scilvata Vai vai tranquilla tanto possiamo andare con abbastanza calma La safe dovrebbe essere un po' a favore nostro se vogliamo dire così Poi una delle due mitragliette perché attualmente in game ce ne sono due Ma questa qui ripeto vi faccio vedere le immagini almeno mi capite meglio Perché se no coi nomi non mi capirei nemmeno da solo È stata potenziata principalmente per il numero di colpi per ogni caricatore Quindi sia quando viene potenziata col caricatore modificato Ma anche quando non è modificata col caricatore appunto Ha più colpi in canna sostanzialmente Ora io le mitragliette le avrei anche ritoccate sotto altri punti di vista Secondo me sono troppo imprecise se non modificate nel modo giusto E da una parte ci sta pure perché così il gioco ti costringe a modificarle Però ecco fare le modifiche per avere delle armi decenti mi sembra un po' eccessivo Poi non so se ve ne siete accorti ma le bacche insomma Le nuove bacche quelle che ti danno anche il potere dell'antigravità Adesso invece di curare 10 curano 15 E non sono per niente male perché mi sembra che in uno slot ce ne possano essere fino a 6 Quindi fatevi due conti è una bella cura insomma attualmente Anche perché poi è molto rapida E poi appunto ti dà l'effetto dell'antigravità che può essere utile in diverse situazioni Soprattutto in no build Qui ho sprecato totalmente queste impulsi Ora qui hanno fatto una cosa che sinceramente non ho ben capito Perché hanno ridotto il numero di colpi nel... Sostanzialmente nel caricatore del lanciapalle di neve Che per carità ci sta perché adesso il lanciapalle di neve lo spammano Cioè in mappa ce ne sono veramente tanti Però ora non so voi ma nelle mie lobby non lo sta prendendo nessuno Io ogni volta che lo prendo faccio tifo letteralmente ragazzi Cioè non riesco a spammarci Ho fatto un video sul mio primo canale qui su YouTube Dove ogni tanto ho ricominciato a portare Fortnite E ho fatto un gameplay penoso perché è veramente una roba inguardabile E loro lo hanno depotenziato Questo non l'ho capito però sono curioso di chiedere a voi Se invece vi sta capitando di fare delle partite in cui Molta gente lo utilizza Vi ci spamma e ci prendete le pizze Oppure se voi lo state riuscendo ad utilizzare E ci state spaccando Ehm... I fondoschiena dei vostri avversari Fatemelo sapere perché sono molto curioso Perché nelle mie lobby non sta assolutamente accadendo E poi ragazzi... Allora adesso amore tu vai a distese del duello Ok Ok Ehm... Poi ragazzi hanno... Ecco a parte il lanciapalle di neve Vabbè per adesso lo utilizzo Vediamo un pochettino Però come vedete ragazzi adesso ne ha quattro Invece di avere sei colpi in canna Ne ha quattro Scelte So scelte So scelte Aspettate Prima facciamo fuori Oscar E poi parli a... Guarda cioè fa 53 di danno Si mette un quarto d'ora a spammare il colpo Non lo so Non l'ho capito moltissimo Questo non l'ho capito moltissimo Di bilanciamento Non l'ho capito proprio per niente in realtà Non è che non l'ho capito moltissimo È che non l'ho capito proprio per niente Se devo... Se devo essere sincero Altro medaglione per noi Il pompa mitico Il coso lo possiamo anche lasciare Tra l'altro ragazzi Alcuni di voi un po' più attenti Avranno già notato Che avevo un medaglione Ma non mi ha curato fino al 100% Dello shield Comunque sì In realtà ci ho già fatto anche un video Ieri sul discorso dei medaglioni Uno shorts in realtà Però oggi appunto approfondiamo meglio Comunque stavo dicendo Lo spacca scudo Invece di togliere 70 Toglie... Invece di togliere 70 Toglie 80 E per me ci sta ragazzi Eccolo qui Adesso toglie... 80 Ci stava Perché quasi nessuno lo utilizzava Ma non credo che questi 10 in più Adesso lo facciano iniziare ad utilizzare Alla gente Non lo so ragazzi Vedremo Poi E direi che me ne sono accorto Dato che lo utilizzo sempre Il cecchino È stato ridotto lo spawn Del cecchino Del 42% Quindi praticamente adesso Se ne trovano pochissimi in mappa Effettivamente Veniva spammato un po' tanto E come arma il cecchino Se viene spammato È pericoloso Erano partiti tutti i meme Anche su TikTok Con i contenuti in verticale Di appunto tutti che giocano col cecchino E effettivamente anche nei miei ultimi video Ragazzi stanno tutti col cecchino Sempre perennemente Perché veniva spammato veramente un sacco Adesso se ne vedono un po' di meno Ma ovviamente si vedono Perché non è che l'hanno tolto del tutto Semplicemente al 42% in meno di spawn rate appunto Ma non è finita qua eh Ve l'ho detto che il bilanciamento è bello grosso Lo Striker AR Quindi il fucile d'assalto Questo qui Quello che assomiglia Allo scar Ma indegnamente oserei dire Adesso fa meno danno Cioè non solo fa schifo a livello di mira Perché io non ci riesco a prendere neanche la gente ferma Adesso fa anche meno danno Commenti? Cioè non lo so Perché poi nel senso Ognuno ha la propria esperienza in game Cioè ognuno gioca in modo diverso Epic alla fine si attiene a quello che succede in generale nel gioco Quindi magari ho io una visione un po' distorta Però sarei curioso di sapere anche un po' il vostro parere appunto Nei commenti No questo comunque non è il boss attualmente Ora andiamo a vedere tutto Ah eccola Valeriona Come stai? No gli ho rotto lo shield ma Io ho fatto amore Ok perfetto Se vuoi vieni verso Valeria Se vuoi Così poi ci Sì Così poi ci becchiamo Allora Andiamo di pump su Valeria Ok Ok ho fatto in realtà Prendo il medaglione Gli prendo anche l'arma mitica E ce ne possiamo andare Allora no in realtà Amore cambio di programma Ci vediamo al laghetto Al lago Quello che c'è davanti Sì sto arrivando Sto arrivando praticamente Sto arrivando Quindi ecco lo striker AR Nerfato Depotenziato Vabbè di uno eh Sono sempre bilanciamenti un po' così Però vacci a capire E adesso i medaglioni ragazzi Allora io vi dico la verità Possiamo anche leggere quello che ha scritto Firemonkey Ma ormai l'ho imparato a memoria L'ho veramente imparato a memoria I nuovi meccanismi dei medaglioni Quindi andrò a memoria Ora vi spiego quello che è successo E poi mano a mano ve lo farò vedere In diretta tra virgolette Cioè vi farò vedere effettivamente i vari cambiamenti Per esempio Perché ho tre medaglioni E ho ancora 75 di shield E continuo a non curarmi Perché praticamente adesso Ogni medaglione Ha un tetto massimo Per quanto può curare O meglio a seconda dei medaglioni Che hai nello slot Negli slot dell'inventario Per esempio Se io ho un medaglione Adesso mi può curare Fino a 50 di shield Se ho due medaglioni Arriva fino a 60 Con tre medaglioni Adesso praticamente arriva a 70 in realtà Dovrebbe arrivare Perché sto a 75 Non lo so E poi con quattro medaglioni A 85 E con Cinque medaglioni Al 100% Quindi amore Allora Tu adesso Rilascia lì i medaglioni Io rilascio qui I miei Ok Attenzione E poi Fammi un po' di danno Una settantina di danno Più o meno Anche poco più Vai Trovo così Vai di nuovo Basta 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 Nel frattempo Faccio medikit Per sicurezza Sì c'hai dietro Anche il falò I flopper Le bende Ok Perfetto Ora io ho 0 di shield Mi prendo il medaglione Di Valeria Ora Un medaglione Non cura più 3 al secondo Ma 2 Al secondo Ma soprattutto Prova a tirarmi un colpo Amore Guardate qua Lo shield si ferma Non continua Non è perpetuo Rimarrà 3 secondi Senza curarmi E poi ricomincerà a curarmi Prima invece Raga Prendete i medaglioni Era un continuo curarti Quindi se subivi danno Ricominciavano subito a curarti Ora aspettano 3 secondi E poi ti ricontinuano a curare Con un medaglione Mi cura 2 Al secondo Come notate E adesso Noterete che si fermerà A 50 Di shield E non andrà Avanti Eccolo qui ragazzi Si è bloccato Come sentite C'è stato anche il sound Io prendo il secondo medaglione Mi cura 3 al secondo E si ferma A 60 Signori Si ferma a 60 Terzo medaglione Mi cura 4 Al secondo E si ferma a 70 Ve l'avevo detto Che era a 70 E non a 75 Con 4 medaglioni Mi cura 5 al secondo E si ferma Ad 85 Ragazzi ormai L'ho imparato a memoria E poi Con 5 medaglioni Arriverà Fino al 100% Ovviamente È indifferente Quale medaglione Tu abbia Quanti Cioè quanti Fa la differenza Però quali Non è importante Tanto tutti hanno sempre Il solito compito E ovviamente Come al solito Non occupano slot Nell'inventario Cioè semplicemente Hanno il loro slot E non occupano Assolutamente nulla Ma non è finita qua Non è finita qua Ragazzi Allora amore Aspetta un attimo Tanto ho già capito Quello che dobbiamo fare Ora io ti dirò Mano a mano Di prendere dei medaglioni Hanno diminuito Il raggio d'azione Dei Del ping Di quando qualcuno C'ha il medaglione Allora amore Prendine uno Solo uno Ok Come vedete Già è un po' più piccolo Prima un medaglione Del 60% Del 60% Regà è un bot E meno della metà Vai prendi il secondo Cioè regà Già sai praticamente Più o meno Dove sta Prendi il terzo Vai col quarto E poi ragazzi Con l'ultimo Praticamente Sai esattamente In tempo reale Dove sta Ciao sono qui Cioè vai Provati a muovere Provati a muovere No 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 Provati a muovere Un po' più Lo avevo visto Cioè guarda È istantaneo regà Cioè guardate È istantaneo Cioè tu sai Ogni singolo Esatto Ogni singolo movimento Dell'avversario Dove sarà Serena Non lo so Dove è Forse è qui Forse in questo c'è spuglio Ma forse Forse in questo c'è spuglio Ah no mi hanno trovato Quindi La domanda che si sta ponendo La community Ora Ha senso Prendere un medaglione Ora io vi dico la verità Il nerf ci voleva Però forse è un po' esagerato Nel senso Io forse Avrei provato Perché poi fortnite Prende e esagera È questo che sbagliano Tante volte i videogiochi Non solo fortnite in generale Quando devono fare un buff Quindi un miglioramento a qualcosa O un nerf Quindi un peggioramento a qualcosa Prendono a esagerare i videogiochi Io non lo so perché Abbiano questa tendenza Ripeto Non solo fortnite Ne vengono di cotte e di crude Anche per esempio Da supercell E tante altre case sviluppatrici In questo caso però ragazzi Secondo me Ripeto Un bel nerf pesante Ci voleva Ma non così Cioè nel senso Ci sta per esempio Lo stop della cura Quando viene ittato Perché se no Una roba perpetua Era troppo potente Ci sta depotenziare Quanto shield al secondo Ti danno E in realtà Ci stava anche questa cosa Del mettere Un tetto massimo Di cura Dello shield Forse già no Però raga Pure il cerchio così piccolo Cioè tu adesso Se prendi un medaglione Ti cura fino a 50 di shield Che non so quanto Possa essere utile Ribadisco anche perché Poi di solito La gente almeno degli shieldini Quando si aveva solo un medaglione Se li portavano Poi se avevi due tre medaglioni Io per esempio Non portavo più shield Ma poi soprattutto Per così poco La gente sa dove sei Perché adesso ripeto Anche avere un solo medaglione Ti va a pingare in mappa In maniera importante Quindi non lo so Lascio la risposta a voi Io le mie considerazioni L'ho fatte Serena anche è stata Abbastanza ironica Quindi bene o male Penso di aver capito Cosa ne pensi Cioè Non lo so Però non hanno fixato questo Quale è il quadrato bianco In mappa Un bel quadrato Ma amore che c'è là Un bel quadrato bianna Ha aggiunto i quadrati bianchi Su Fortnite ragazzi Incredible Incredible La tua posizione è rilevata Non me ne ho racconto Chissate quanto poi Tra l'altro Vabbè Le armi mitiche Teoricamente Non dovrebbero essere State toccate Nel senso che Ne abbiamo parlato prima Delle armi toccate E teoricamente Nessuna di quelle Che c'era la versione mitica È stata toccata No forse Lo striker AR Quello che sembra Lo scar Che però tra l'altro È stato Depotenziato Depotenziato Però vabbè In tutte le rarità Quelli sono stati Toccati E quindi Questo è il gran bel bilanciamento Che ha fatto così De botto Senza senso Fortnite L'altro giorno Quindi ragazzi Che dire Io ci sono un po' rimasto Anche perché Come avrete capito Dalla mia spiegazione Alcuni bilanciamenti Delle armi Non è che li abbia Proprio capiti Quelli dei medaglioni Ci stava Vediamo se effettivamente È come sta dicendo la community Perché io lo shorts L'ho già caricato ieri I commenti L'ho letti Sia su TikTok Che su Instagram Anche qui su YouTube Di gente che comunque dice Sì vabbè Ma io non li prendo più Vediamo Anche perché comunque Ripeto Non occupano spazio Nell'inventario E effettivamente Vanno a dire La tua posizione Dipende se siete Persone che Pushano Oppure camperano Lì Dipende un attimino Quindi vabbè È un po' così Lo dobbiamo un po' vivere Sto bilanciamento E vediamo Più che altro Ho paura Ora che adesso Non tocchino più nulla Fino a gennaio Dato che Non sono previsti Grossi aggiornamenti Martedì forse C'è un content update Quindi vedremo Delle novità Ma non lo so Anche perché adesso Dovrebbero andare in vacanza E per poco più di due settimane Non dovrebbero più toccarsi Dovrebbero essere già in vacanza In realtà Da quel che avevano detto Benissimo ragazzi Questo sarà il gioco Fino a gennaio A parte qualche content update E qualche cosa Che verrà aggiunta Vi ricordo ovviamente Il codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato Negozoggetti di Fortnite Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lascia un bel mi piace Per noi tutto Ci troviamo dopo Col video delle 13 e 30 Che è una chicchetta Molto interessante Ciao ragazzuoli Ciao ciao dopo